Stai ascoltando un podcast per Izzogli Education. Lettura oltre. I consigli di Rachele Bindi. Per un futuro sostenibile. Ciao, oggi parliamo di futuro sostenibile e per farlo riprendiamo sinteticamente i 17 obiettivi dell'Agenda 2030 che fanno riferimento a un insieme di questioni importanti per lo sviluppo. Gli obiettivi prendono in considerazione in maniera equilibrata le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile quella economica, quella sociale e quella ecologica e mirano a porre fine alla povertà, a lottare contro l'ineguaglianza, ad affrontare i cambiamenti climatici a costruire società pacifiche che rispettino i diritti umani. Vi proporrò alcuni libri utili sia a comprendere la situazione globale, che ammettiamolo è complessa sia a indicare possibili strategie e azioni quotidiane capaci di contribuire alla creazione di un futuro sostenibile. Il primo libro di cui voglio parlarvi è Fa un po' caldo di Federico Grazzini e Sergio Rossi, un saggio che riassume in maniera sintetica ed efficace le principali tematiche dell'Agenda 2030, aiutandoci a riflettere e a porci le giuste domande. Spesso le questioni importanti sembrano più grandi di noi. Il riscaldamento globale è colpa degli esseri umani? Siamo ancora in tempo per invertire la rotta? Il testo ci accompagna a conoscere meglio il nostro pianeta, a capire come funziona l'atmosfera e come possiamo agire concretamente nella quotidianità. I libri sono strumenti preziosi, in alcuni casi veri e propri manuali per progettare azioni concrete. È il caso di Il manuale delle 50 piccole rivoluzioni per cambiare il mondo, di Pierdomenico Baccalario e Federico Taddia, e di Salvo il mio pianeta, 40 passi per curare la Terra e crescere felici, di Vittoria Jacovella. Il primo è una sorta di guida alla rivoluzione che fornisce ai lettori elettrici, oltre al passaporto e alle regole d'oro del perfetto rivoluzionario, tra cui trovare almeno un amico con cui mettere in atto la rivoluzione, 50 sfide per migliorare noi stessi e anche il mondo che ci circonda, dandoci una grilla per valutare gli esiti delle nostre azioni rivoluzionarie e numerosi suggerimenti di lettori a tema. Un esempio? Smettere di comprare bottigliette d'acqua. Il secondo affronta invece la questione dell'ecologia, partendo da un presupposto individuale. Di che cosa abbiamo bisogno per essere felici? Se la felicità è stare bene insieme agli altri e all'ambiente, come possiamo vivere bene se non ci sono più uccelli? Se le città sono posti artificiali che non concedono spazio alla natura? Se la foresta brucia? L'autrice ci aiuta a comprendere che la nostra felicità dipende anche da noi e dai nostri comportamenti e ci accompagna in un percorso in 40 passi in cui troveremo approfondimenti sui grandi personalità, punti di riflessione e utili consigli pratici per organizzare la quotidianità sostenibile. Parlando di ispirazione, Alza la voce, manuale per cominciare a cambiare il mondo, di Jamie Margolin, è una lettura perfetta. L'autrice è un'attivista diciottenne che organizza manifestazioni di protesta da qualche anno, un po' come Greta Thunberg, che infatti firma la prefazione al testo. In questa guida troverete consigli efficaci per diffondere messaggi di attenzione verso le istanze del nostro tempo. L'idea alla base è che anche se siete troppo giovani per votare, la vostra voce merita di essere ascoltata. Così troverete come impostare degli articoli perché siano efficaci, come organizzare eventi e proteste pacifiche, come dedicare del tempo all'impegno sociale senza penalizzare gli impegni scolastici, come usare i social in maniera utile alla causa. Troverete anche interviste ad altri attivisti che raccontano e condividono le loro esperienze di impegno. Un altro esempio lo troviamo in Green Girls, storie vere di ragazze dalla parte del pianeta, di Cristiana Ruggeri, una raccolta di storie diverse di ragazze che hanno come obiettivo comune la salvaguardia del pianeta. Le storie sono suddivise per continente, dall'Europa, più precisamente dall'Italia, abbiamo le leader italiane di Fridays for Future, il movimento ambientalista di Greta Thunberg, ovvero Miriam Martinelli e Alicia Imbastari. Ma insieme a loro c'è chi difende i bradipi, chi raccoglie rifiuti, chi salva i coralli. In molte zone in via di sviluppo, una persona su cinque vive al di sotto della soglia minima di povertà assoluta, cioè diversi milioni di persone continuano a vivere in condizioni di miseria, malnutrizione, discriminazione sociale e accesso limitato all'istruzione e ad altri servizi di base. Per queste ragioni è stato fissato come primo obiettivo dell'agenda 2030 quello di sconfiggere la povertà. La situazione è particolarmente grave in Asia, in Sud America e nella maggior parte delle regioni dell'Africa, dove i fattori scatenanti di tale aumento sono la variabilità del clima, le guerre e le crisi economiche. Sconfiggere la fame è il secondo obiettivo dell'agenda 2030. La fornitura di migliori risorse idriche è al centro dell'obiettivo 6 dell'agenda 2030, che si propone di ottenere l'accesso universale ed equo all'acqua potabile e agli impianti sanitari ed igienici, nonché la riduzione dell'inquinamento e del rilascio di prodotti chimici e scori pericolose, e infine la cooperazione tra stati per promuovere attività e programmi legati all'acqua nei paesi in via di sviluppo. Gli appelli degli organismi internazionali per una ridistribuzione delle risorse idriche non sono però sufficienti a risolvere la situazione. È perciò necessario che ciascuno di noi assuma comportamenti corretti allo scopo di tutelare l'acqua e risparmiarla. Per favorire lo sviluppo e la crescita, è fondamentale che l'accesso all'energia sia garantito a tutti, anche nelle aree più povere del mondo. L'obiettivo 7 dell'Agenda 2030 comprende quindi una doppia sfida, fornire l'energia necessaria per aumentare il livello di benessere e salvaguardare allo stesso tempo l'ambiente e le sue risorse. Anche la narrativa si occupa di queste tematiche, con romanzi come Rifugiato Climatico 27-22 di David Moite, che ci porta in un mondo distopico in cui una piccola parte della popolazione è sopravvissuta alla crisi generata dal suo riscaldamento globale e dalla conseguente mancanza di acqua. Oliver, il protagonista, è uno dei fortunati, come molti altri rifugiati, è cresciuto in una città sotterranea dove gli abitanti si organizzano per proteggersi dalle onde radioattive esterne e hanno strutturato un esercito per respingere eventuali nemici. Sia il padre che il fratello di Oliver sono membri del governo della città, mentre lui fatica a trovare il suo posto. Ma quando si ritrova solo, Oliver inizia a cercare risposte diverse, scegliendo di tornare in superficie. Che cosa troverà? In La vendetta del bosco di Teo Benedetti facciamo invece conoscenza con una famiglia impegnata nella costruzione di un futuro sostenibile. Sono in viaggio per raggiungere un parco naturale e passare un lungo fine settimana a raccogliere la sporcizia lasciata lungo i sentieri dai visitatori maleducati. Arianna, il fratellino Pietro e i genitori sono stati invitati da un'associazione di volontari che organizza mensilmente questo tipo di iniziative, ma stavolta le cose sono un po' più complicate. Nel bosco c'è uno spirito che non sopporta più alcuna ingerenza umana. Che cosa succederebbe se la natura iniziasse a vendicarsi? Come difendersi dal bosco che non distingue gli umani buoni da quelli cattivi? Tra manuali per rivoluzionari, suggerimenti pratici per contribuire al cambiamento, racconti di attiviste e attivisti e romanzi distopici, quali libri sceglierete per approfondire il tema dello sviluppo sostenibile? Buona lettura! A risentirci! Seguici su rizzoglieducation.it per ascoltare le prossime puntate di Lettura Oltre, i consigli di Rachele Bindi. Hai ascoltato un podcast per Rizzogli Education.